ha sputato ciao a tutti oggi noi con Mirko facciamo colazione da mcdonald's anzi, il mcdonald's è venuto da noi vero? l'happy meal colazione vediamo cosa troviamo nell'happy meal colazione tu non ce la fai? e poi così, guarda tic Mirko ha voluto anche il panino io ho trovato il giochino lo yogurt tu ce l'hai panino? tu ce l'hai panino? ancora panino ma te sempre panini mangi? hai la faccia di un panino tieni non lo vuoi ok io ho preso i pancake però mangiamo anche panini ora ce l'ho mamma anche tu ce l'hai? anche io ce l'ho vediamo cosa c'è dentro io ho il gatto di pokemon e tu hai un uccellino eccolo il tuo uccellino tieni come fa? aspetta si muove? ma guardate c'è anche una carta di pokemon qui si c'è una figurina di pokemon eccoli tieni la tua figurina trollet e io non ce l'ho però io ho il gattino che sputa guarda allora questa la infiammo dentro ah ecco adesso devi sputare ha sputato ha fatto eccoli il nostro uccellino il tuo uccellino ah il tuo uccellino ha la carica aspetta che lo carico vediamo che fa leviamo tutto che carino ancora? fai tu dai ragazzi adesso noi facciamo la colazione ci vediamo dopo ciao iscrivetevi e guardate altri video ciao 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 ciao